Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Impruneta e tra il bivio di Firenze Nord e quello della variante di Valico. Sulla Fipili, traffico rallentato a causa di lavori tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco in direzione Mare. Per l'intervento di riprissino, frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze Impruneta. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!